Il settore pony western ha l'obiettivo di portare le discipline della monta western nell'ambito pony, pony e bambini. Per quanto riguarda i pony c'è comunque tutto quello che è una doma e un addestramento legato appunto a queste discipline, quindi discipline più tecniche come le performance. Per quanto riguarda quello che è l'aspetto didattico dei bambini, avremo sia la parte tecnica, quindi anche questa legata alle varie discipline, ma anche tutto ciò che è folklore e valore della monta western.